Ciao e benvenuti su MyFootballJersey, io sono Stefano e oggi vi presento un'edizione speciale, la Whiteout del Arsenal per la stagione 21-22, nella versione Authentic o Player, quella cioè indossata dai calciatori. L'Arsenal ha indossato questo kit tutto bianco in edizione speciale contro il Nottingham Forest nell'ambito di una campagna No More Red con Adidas contro la violenza giovanile e il crimine dei coltelli, Knife Crime. Questa maglia è una riproduzione di quelle indossate durante la partita ed è realizzata in bianco con tutti i loghi applicati in tono. Questo kit è molto particolare sia nello stile che nello scopo, poiché questo kit è stato indossato per aumentare la consapevolezza sul numero crescente di crimini legati ai coltelli a Londra attraverso la campagna No More Red. Dal punto di vista dello stile i kit sono eleganti nella loro semplicità e sicuramente faranno girare la testa. Adidas è stata magistrale nella creazione dei kit che attirano l'attenzione dei fan, però questi kit non riguardano lo stile o il profitto, ma la consapevolezza su questo importante problema. Bellissima! Questa maglia è veramente bella, elegante e peraltro fatta per una nobile causa. Nella mia classifica prende 4 stelle e devo dire fatta veramente molto ma molto bene, sono rimasto veramente sorpreso e vi ricordo che trovate in descrizione tutti i riferimenti per poterla acquistare. Per oggi è tutto, se la maglia vi piace vi prego di mettere un like e di iscrivervi al canale per avere altre recensioni in futuro. Per oggi è tutto, alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg. Quella che vedete è una taglia large della versione Authentic, quella un po' più aderente dedicata ai giocatori, agli atleti.